Se raccontaci bene cosa fate e in che modo sfruttate la bluccia. Volentieri, la soluzione Connected Food è una soluzione pensata appunto per gli attori dell'agroalimentare, questa che vedete è la soluzione nella sua globalità, quindi composta da due moduli tra loro complementari, un modulo che noi chiamiamo B2B, che di base è una piattaforma collaborativa che permette agli attori dell'agroalimentare di condividere dati e informazioni in tempo reale per consentire la tracciabilità di ogni lotto di prodotto dall'origine al prodotto finito e dall'altra parte con il modulo B2C che abbiamo visto prima, che poi vedremo più nel dettaglio, permette di comunicare ai consumatori delle informazioni vere, delle informazioni verificate perché noi agganciandoci insomma ai sistemi informativi dei diversi attori di filiera recuperiamo i dati in continuo, in tempo reale e questi dati vengono condivisi tramite una soluzione un po' più tradizionale che è un QR code che mettiamo sul packaging dei prodotti, il consumatore facendo uno scan del QR code vede prima persona il ciclo di vita del prodotto, quindi l'origine e tutto il processo produttivo.